Allora, lei è Fabiana? Buonasera. Diciamo che un po' l'ospedio di Lovemore è questo, no? Unire, rompere le barriere. Stasera eravamo perfetti sconosciuti e adesso, dopo aver suonato insieme, saremo un po' amici. E poi chissà, da cosa nasce sempre cosa. Noi tre, fino a quattro anni fa, non ci conoscevamo. La musica ci ha unito in un legame indissolubile che durerà auspicabilmente per tutta la vita. Quindi, insomma, visto che siamo veramente testimoni di questo spirito, Lovemore è questo. Con Fabiana eseguiremo un brano, una papana, una danza rinascimentale. E però lei prima ci farà sentire un brano solistico. Grazie. 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 Grazie a tutti.